Ok, allora ora siamo con Ilaria Mauric e Manuel Spezzani che parleranno della loro esperienza che hanno avuto con lavorare con due team separate e non si conoscevano. A voi la parola. Allora, ciao a tutti. Sono qua dietro per chi non mi vede, faccio un po' fatica. Allora, io sono Manuel, sono Technical Lead in E-Consulting e mi occupo di sviluppo software. Io sono Ilaria Mauric, sono socia e Head of Design di GNV & Partners e Twitter Ilaria Mauric, se volete. Ok, oggi vi raccontiamo la storia di come è nato il primo prodotto sviluppato dal mio team. L'idea è raccontarvi metodologie, strumenti che abbiamo utilizzato e come ci siamo organizzati a livello di team e a livello di team all'interno dell'azienda. L'obiettivo non è parlarvi del prodotto, non è parlarvi dell'azienda. L'obiettivo è prendere il caso reale e vedere come metodologie e strumenti sono stati applicati nella vita vera, nella pratica. Quindi, siamo a metà, poco più del 2013, decidiamo che è il momento di trasformare quell'idea che ci frulla già da un po' nella testa in un prodotto. La prima domanda che ci facciamo è, sì ma saremo in grado di farlo? Da livello per la risposta istintiva, sì certo, perbacco, noi lo facciamo tutti i giorni di trasformare idee in bit. Il problema però è che quando fai un prodotto, il prodotto deve essere vendibile e il prodotto deve essere sostenibile. Sostenibile sia se fallisci, cioè non devi mandare in malora l'azienda con i tuoi investimenti, sia se hai successo. Perché, ad esempio, dal punto di vista del supporto, se vendo un numero ragionevole di licenze, non devo andare sott'acqua. Devo progettare dall'inizio un prodotto che mi permetta di minimizzare le richieste di supporto, essendo semplice, e nel caso ci siano, di diagnosticare i problemi in maniera semplice. Come si fa quindi a fare un prodotto? Un prodotto non è solamente sviluppo, quindi, questo l'abbiamo imparato un po' a nostre spese. Fare un prodotto vuol dire conoscere il mercato, conoscere gli utenti, conoscere cosa vogliono, e capire quali sono le azioni che si possono fare per salire la china, salire la montagna, arrivare al nirvana dell'azienda che è la maturità del prodotto, dove banalmente si fanno soldi. Noi abbiamo un background che non è di prodotto, noi facciamo progetti, facciamo consulenze, e quindi entrare in questo mondo è stato un po' difficile. Una cosa che ci ha aiutato è ragionare un po' per progetto, capire che in ogni momento del ciclo di vita del nostro prodotto, noi se riuscivamo a capire le cose di qui sopra, cioè il mercato, cosa fanno i miei competitor, cosa vogliono i miei utenti, possiamo far partire dei microprogetti che possono essere di sviluppo, di comunicazione, di marketing, per far fare un passettino al nostro prodotto. Passettino ovviamente la difficoltà è farglielo fare nella direzione giusta. Oggi noi siamo qui, abbiamo sviluppato una prima versione vendibile, l'abbiamo introdotta piano piano sul mercato ad alcuni utenti beta, l'idea è arrivare a fine anno, inizio del prossimo, con la campagna di marketing vera per salire la montagna. Abbiamo detto che noi siamo un'azienda che fa consulenza, siamo 150 persone che fanno progetti, i nostri manager, i nostri strumenti, i nostri processi aziendali, tutto orientato al progetto. Il problema è che in un team che deve fare prodotto questo è potenzialmente un rischio, perché il rischio di dire abbiamo sempre fatto così, abbiamo sempre usato questi strumenti, è terrificante, è terribile. In più il prodotto che stiamo per iniziare a sviluppare è relativo a un dominio estremamente complesso. Si parla di progettare, navigare, esplorare il modello concettuale di un data warehouse. Chiaro, no? Cioè, chiaro a tutti, evidente. Per risolvere questi potenziali problemi decidiamo di andare su una scelta un po' estrema, se vogliamo. Il team di sviluppo si rapporterà al resto dell'azienda, un po' come una start-up si rapporta al suo venture capitalist. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'azienda ci darà un budget, ci darà autonomia organizzativa e noi in cambio ci impegneremo a consegnare una prima versione vendibile entro la data X. Se riusciremo, il venture capitalist ci sbloccherà un'altra fetta di budget per procedere con la fase successiva e così via. Questa è stata la scelta, la scelta fondamentale, non solo perché ci ha permesso di organizzarci in maniera autonoma, di avere un budget anche se limitato, che ci ha permesso di scegliere i nostri strumenti, eccetera, eccetera, ma soprattutto perché ci ha dato delle deadline estremamente chiare, degli obiettivi estremamente precisi e questo ci ha permesso fin da subito, fin dal primo momento di concentrarci sulle attività a vero valore. Prima di partire abbiamo detto il progetto, il prodotto deve essere sostenibile, quindi un po' di conti, quanto tempo, quante persone, quali strumenti ci serviranno, totalone e con un prospetto del genere siamo andati dall'azienda a chiedere, ragazzi, questo investimento è sostenibile per i prossimi 13 mesi? Sì, ok, allora possiamo partire. Possiamo partire, a questo punto partiamo da tabula rasa, il team si può organizzare come vuole, può scegliere i propri strumenti e le proprie metodologie. Partiamo proprio dalle metodologie, qui la scelta è stata abbastanza facile, io arrivavo da diversi anni di lavoro in team Agili, il manager che ci seguiva anche e quindi la scelta è stata un po' quella, perché? Soprattutto perché il business era estremamente complesso, quindi fare le cose bene al primo colpo era impossibile, assolutamente impensabile. Dovevamo lavorare per forza a stretto contatto con i business user per farci guidare nelle scelte e per avere feedback, e il feedback si ha principalmente sul software che funziona. Guardiamo gli strumenti, mille, non stiamo a guardarli uno per uno, non ha senso, guardiamo i problemi che questi dovevano andare a indirizzare. Prima di tutto tenere tutti allineati, tenere tutti a bordo, chi sono tutti, i developer, i designer, i business user, gli utenti finali, chiunque, condividerà la roadmap, condividere l'avanzamento e così via. Abbiamo detto che dobbiamo rilasciare spesso per avere feedback spesso, non è pensabile, secondo noi, rilasciare spesso se la procedura di rilascio non è automatica. Deve essere un click e durare 4 secondi, quindi servono una serie di strumenti a supporto. Infine abbiamo detto che ci serve feedback dagli utenti, ma il feedback degli utenti spesso è poco chiaro, poco preciso. Ci serve anche il feedback dall'applicazione stessa, e quindi tutta una serie di strumenti per avere idea delle feature più utilizzate, idea dei crash e di come risolverli, quindi nella segnalazione ci deve essere banalmente lo stack trace. Finiamo con i principi, finiamo questa prima introduzione. Questi arrivano un po' dalla nostra esperienza, un po' anche da chiacchiere fatte con aziende nostre amiche che invece avevano molta più esperienza di noi nello sviluppo prodotto. Primo, mettere al primo posto il prodotto e gli utenti. Tutto il resto è un accessorio, in particolare i processi aziendali. Tutto deve essere ridotto al minimo. Due, l'abbiamo già detto, ma è meglio sempre ricordarcelo. Gli sviluppatori in generale tutti devono concentrarsi sulle attività a vero valore. Tutto il resto, se possibile, deve essere automatizzato. Tre, ancora, feedback. Il feedback dell'utente è fondamentale, anche se l'utente non mi sta pagando, perché comunque è valore. E quindi bisogna fare di tutto per rendere semplice il contatto fra l'utente e il team. Come? Usando lo strumento più semplice per l'utente. Può essere Twitter, la mail, il sito di supporto, quello che volete. Ok, siamo pronti per partire. Dobbiamo capire cosa vogliamo fare. Inizialmente abbiamo quest'idea. Il nostro non deve essere un prodotto, ma una suite. Due strumenti. Uno dedicato a utenti tecnici, uno strumento di progettazione, e qui siamo abbastanza confidenti. Siamo tecnici anche noi, progettiamo anche noi, grosso modo. Un'idea di dove andare ce l'abbiamo. L'altro deve essere uno strumento di esplorazione e navigazione del modello concettuale di un data warehouse per utenti non tecnici. Che forma deve avere? Quali dati deve presentare all'utente? È il momento di farci aiutare da qualcuno che ne sa per davvero. Ok. Ok. Modello concettuale, quello lì. Conte Mascetti, amici miei. Più o meno i ruoli erano questi. Ok. Modello concettuale, questo è quello che abbiamo capito alla prima conversazione. Ma una cosa abbiamo capito. Quindi avete un budget e un tempo. Che cosa potete farci con questi due vincoli? Solo che non avevamo capito esattamente che cosa ci stavano chiedendo. Questo è un problema classico che abbiamo noi designer, specialmente quando la materia chiaramente è così tecnica e andiamo a infilarci in un dominio che, come in questo caso, veramente non è riconducibile a nulla. Nel 1800 Emerson in America aveva detto che principi ce ne sono pochi, metodologie moltissime. Chi sceglie un metodo senza basarlo su un principio non probabilmente incontrerà grossi problemi. Chi invece parte dal principio e su quello sceglie, adatta degli strumenti, probabilmente avrà, diciamo, molte più chance di avere successo. E questo principio qua ci ha un po' guidato. Per noi i principi di design in questo progetto specifico erano prima di tutto di verificare le assunzioni. Dal primissimo incontro c'era già un'idea di modello, di pricing, di licenze, di utenti. Insomma, c'erano ovviamente tutta una serie di situazioni che si erano immaginati e che andavano verificate perché, come dicevo, appunto, sia il dominio era molto complesso sia comunque sano verificare se quanto si sta pensando sia effettivamente congruo con la realtà. In più, volevamo, diciamo, impostare il processo di lavoro, tutto il progetto, in modo che sia la comprensione che la raccolta di feedback, che l'apprendimento fossero molto facilitati. E poi, sicuramente, questo è il nostro principio dare il benvenuto ai cambiamenti quindi se scoprendo, se intervistando, se facendo test si scoprivano che alcune cose non servivano altre invece sì, di facilitare molto questa cosa. E poi l'MVP doveva essere, siccome il tempo appunto era limitato il budget era predefinito si doveva fare di tutto per capire molto chiaramente quali erano le cose che l'MVP avrebbe potuto fare e quelle che invece non poteva fare e quindi cercare comunque di mettere dei piccoli hint, suggerimenti, call to action per raccogliere informazioni strategiche che sarebbero state molto utili per la fase successiva. E questo è come abbiamo impostato. Questi sono gli sprint che abbiamo proposto potevamo fare cinque sprint con un respiro piuttosto ampio come suggeriva anche Hoang. Avevamo bisogno di almeno due settimane di tempo ma in qualche caso siamo arrivati anche ad aver bisogno di un mese per capire certe cose e loro anche per svilupparle. La cosa che volevamo fare di cui ovviamente crediamo essere fondamentale è fare user test e interviste con gli utenti. In questo caso appunto parliamo praticamente di un progetto di start-up e quindi chiedere agli utenti non è che si potessero fare tutte queste ricerche di mercato non c'era neanche poi tutto questo tempo e quindi dovevamo partire a essere molto molto pratici. User test a volte vengono percepiti come un tempo che può essere risparmiato e io per esperienza ormai sono due anni che praticamente in ogni progetto cerco di non toglierli cioè cerco in qualche modo di arrivare in un momento in cui il prodotto il cliente si scontreano con quel momento lì e chi riesce a capire l'importanza di questa cosa lo fa subito. Quindi va subito a fare user test e subito capisce certe cose. In altri casi dobbiamo costruire una fiducia e quindi ci si arriva più in là. In questo caso la fiducia c'era e abbiamo potuto farli subito. Che cosa succede se non li facciamo specialmente in un dominio di questo tipo? Assunzioni, prodotto che va per la sua strada, mondo reale, nel mondo dei tarocchi l'immagine che si usa è la ruota della fortuna che ha dei significati simbolici, esoterici, molto affascinanti per chi non la conosce. Ok. Su Medium hanno pubblicato qualche tempo fa un bellissimo articolo che faceva alcuni esempi su come ragiona un designer junior rispetto a un senior e il designer junior procede per tutta questa serie di involuzioni basandosi su non ho capito bene cosa. Per me questa idea qua era molto chiaro che questo tipo di schema poteva essere applicato a un intero processo che sia basato su assunzioni e non su uno scontro con una verifica con la realtà. Tra l'altro notate che tutti fanno le cose per silos quindi il manager crede di aver capito delle cose dall'utente, lo sviluppatore le inferisce dal manager e il designer le prende dallo sviluppatore con quel fumettino con parole strane però alla fine il designer tutti quanti dovrebbero progettare per l'utente. Ovviamente così non è molto sano e quindi siamo tornati ai nostri principi quindi come possiamo fare. Ricerche con gli utenti sono andata a fare due anni fa quasi tre, un corso in America per approfondire e capire come potevo usare gli strumenti delle interviste user test e la ricerca sulla ricerca una delle slide che mi hanno presentato nei quattro giorni di corso era questa qua dove più o meno si diceva che a seconda della dimensione non so ancora ci sto ragionando non ho capito quindi più o meno il tempo che ci avessi per capire era il tempo in cui era finita la prima iterazione quindi un po' più un po' più veloci. Per fortuna nello stesso corso la slide successiva era potete fare anche test e interviste a basso impatto quindi abbiate il coraggio quindi a volte secondo me anche questa cosa della ricerca è un po' un alibi per non fare user test. L'anno scorso Raffaele Boiano ha presentato secondo me uno dei talk più belli qui a V3 Software lo Storygraph non entro nel dettaglio ma per me il concetto fondamentale che ha fatto passare benissimo era che un'intervista è meglio di zero due è meglio di uno e via così quindi fatele. 2000 Nielsen Norman ha detto che quello diciamo dai 5 ai 10 la curva dell'apprendimento dagli utenti inizia a essere prossima insomma allo zero nel senso inizia ad essere veramente pochi gli insight da zero a 10 più o meno veramente si iniziano ad imparare tantissime cose quindi più o meno anche noi abbiamo intervistato dai 10 ai 12 utenti era quello che potevamo riuscire a fare nell'intervallo di tempo rispetto al budget il time frame e a tutte le altre cose che avremmo dovuto fare dovevamo però farli all'inizio durante alla fine eccetera eccetera soprattutto volevamo instillare nel team diciamo la comprensione dell'importanza cioè spiegare chiaramente quanto fossero importanti perciò loro era obbligatorio che ci fossero in modo che potevano capire come conducevamo questi test e infatti dopo hanno continuato a farli anche senza di noi toolbox allora nella sinistra ho messo quelli dedicati alla comunicazione alla preparazione in un progetto di design e gli strumenti di comunicazione per quello che mi riguarda diciamo nell'esperienza mia definire progetto comunicare fare scoperte verifiche e quant'altro sono tornando un po' alla slide di Matteo tutta quella parte sotto fa molto riferimento a quella parte sotto dell'iceberg quell'angolino lì sono i deliverable che si vedono però tutto intorno c'è tutto questo lavoro che viene fatto a monte per fare il deliverable giusto quindi non c'è niente di più sbagliato che fare molto bene una cosa però appunto sbagliata e quindi tutta questa cosa intorno serviva per quello tenere allineato il team era fondamentale questi sono esatti i nostri sprint più o meno questo processo che abbiamo seguito siamo partiti dallo strumento che noi stiamo usando adesso per fare le verifiche si chiama Project Canvas dopo ve lo faccio vedere un attimo proprio velocemente ed era serviva per perimetrare diciamo l'aspettativa sul progetto chi era il team vincoli eccetera eccetera quindi piuttosto descrittivo siamo partiti subito con interviste con gli utenti vi lascio immaginare cosa potevo intervistare le domande fatte al primo giorno su un modello del genere però ce la siamo capata apprendimento prototipi di carta user test apprendimento in vision eccetera eccetera fino all'MVP finale tornando ai tarocchi il bagatto è la carta che rappresenta questo tipo di di flusso il bagatto è colui che si rende conto che tutto può che ha gli strumenti sa usarli e almeno si rende conto di quello che sta facendo anche dei punti deboli anche delle cose che non sta facendo ma almeno lo sa volutamente qui si iniziano un po' a vedere dopo ve li faccio vedere ancora meglio nella pratica sono davvero gli strumenti che abbiamo usato project canvas user test con una prima journey map che rappresentava la fotografia reale di come gli utenti si comportavano senza il prodotto prototipi di carta user test journey map modificata anche quello strumento è stato piuttosto importante perché ha aiutato diciamo tutti quanti a capire che il prodotto che si stava pensando andava a cambiare un'abitudine consolidata da anni nelle personas che poi sono infatti diventate secondarie e hanno fatto emergere una personas primaria che guarda caso era il buyer per tornare alle slide di Matteo questo processo che ci rappresenta tornando sempre a medium e questo è l'atteggiamento diciamo di tutto il team verso l'utente questa slide qua nasconde una cultura aziendale che non è affatto banale cioè almeno aziende che lavorano così e sono disposte a fare un passo indietro quindi sul ruolo di manager sulla diciamo l'ownership dello sviluppo eccetera è veramente cruciale molto molto difficile e non è detto che si trovi quindi in questo caso l'abbiamo trovata questo project canvas quindi la prima cosa che facciamo una delle prime cose che facciamo nelle riunioni e per definire il progetto occhio perché questo dice che cosa faremo ma non perché occhio poi schede utente con per un colpo d'occhio sempre tornando alla comunicazione con i team abbiamo praticamente rispetto alle interviste fatte anche fatto un riepilogo dei momenti salienti questo per facilitare la compressione al volo dei manager che erano sempre in viaggio ma dovevano a colpo d'occhio in 5 minuti capire a che punto eravamo e prendere delle decisioni e poi journey map prima e dopo e boh ci siamo ok come tutto questo si può combinare nella vita vera di tutti i giorni del team beh abbiamo detto developer e designer avevano interazioni a durata variabile l'iterazione tipo di un developer era partiamo col prodotto il prodotto già dal primo giorno è in uso ad alcuni utenti interni io vi ho detto che l'azienda era il venture capitalist in realtà era anche un bacino di utenti early adopter impagabile e questi usavano il prodotto per il loro lavoro quindi bisognava supportarli quindi bug fix supporto in generale feature request eccetera eccetera e alla fine di ogni sprint di design recepire i deliverable e fare un giro con i business user per capire a livello macro che la strada fosse quella giusta e poi partire con l'implementazione almeno di un prototipo per permettere a loro nel più breve tempo possibile di testare le assunzioni fatte in fase di design e qui il potenziale problema perché se il design è il deliverable è implementabile in maniera semplice tutto bene tutto rientra nella normalità si creano le user story si stimano si mettono in priorità eventuali spike tecnologici per capire la strada migliore dal punto di vista tecnologico e poi implementazione se il design non è implementabile in altre realtà ho visto succedere la guerra dei mondi come si fa a risolvere il problema in questi casi stampandosi nel cervello un principio un concetto molto semplice developer e designer sono due animali completamente diversi la pensano in modo diverso vedono il mondo in modo diverso hanno competenze diverse ma sono entrambi professionisti quello che dicono non è frutto di così sfizio voglia di mettere il fiocchettino o voglia di provare l'ultima tecnologia stampato questo nel cervello tutto viene di conseguenza basta sedersi a un tavolo parlarne e trovare la soluzione a minore impatto per tutti non si può fare sempre noi abbiamo fatto le nottate loro hanno fatto le nottate ci sta è parte del gioco punto dove siamo arrivati? beh abbiamo due prodotti abbiamo acquisito i primi clienti abbiamo fatto i primi webinar e quindi abbiamo acquisito i primi feedback e i primi schiaffoni da parte degli utenti cosa si fa in questi casi? si recepisce il feedback si recepiscono gli schiaffoni si migliora il prodotto di conseguenza e si itera abbiamo presentato il prodotto ad alcuni clienti della nostra azienda abbiamo avviato una piccolissima campagna AdWords per capire come altri mercati percepiscono il nostro prodotto e quindi abbiamo preso altri feedback e quindi abbiamo preso altri schiaffoni e così via per concludere cosa abbiamo imparato? beh prima di tutto che non bisogna fermarsi a il tool mi dice di fare così la metodologia mi dice di fare così bisogna ad ogni iterazione alzare la testa capire cosa c'è da fare dato questo time frame dato questo budget qual è l'attività a maggior valore che posso fare e agire di conseguenza e poi che non necessariamente bisogna stare nella Silicon Valley per progettare con metodologie agili o processi lean il bagatto ce lo insegno ok abbiamo fatto siamo andati forse un po' lunghi domande? inglese però se si spiegate cos'è il sistema di export si volevo sapere nella vostra esperienza di questi user test qual è lo user test all'interno del processo che vi ha dato maggiore valore e poi anche voi avete disegnato sempre questo processo qua ma mi interesserà capire anche se il prodotto che avete fatto è un prodotto nuovo in un mercato nuovo o un prodotto esistente in un mercato nuovo o un prodotto esistente in un mercato esistente cioè se voi pensate che questo tipo di catena sia sempre applicabile oppure in alcuni casi si può semplificare perché user test costano molto dipende nel nostro caso non sono costati molto oggettivamente non abbiamo affittato sale pagato gli utenti erano loro che volevano il prodotto sono venuti quindi erano molto molto interessati e volevano sapere non abbiamo fatto sforzi per cercarli perché erano già o prospect o clienti dell'azienda quindi ha abbattuto un sacco i costi quindi è stato relativamente basso il costo e questo è stato possibile è stato così per tutto il processo io penso che il primo test cioè la prima fase dell'intervista di test dove c'erano tutti i stakeholder l'owner il venture capitalist è stato piuttosto illuminante c'è stato proprio un momento di sedie rotte gente caduta giù perché hanno capito che dal primo giorno che una delle feature che non volevano mettere perché costava moltissimo era praticamente l'unica feature che avrebbe fatto usare il prodotto e lì c'è stato quel momento lì è stato proprio disruptive per guidare poi sono stati forse fortunati a scoprirlo non so se è stata anche fortuna però ok è andata così dalla prima e dopo questa cosa qua ci ha facilitato molto mercato prodotto lascio rispondere a lui che lo conosce molto meglio allora il prodotto è un prodotto in un mercato di nicchia assolutamente di nicchia il fatto che nessuno probabilmente abbia capito a cosa mi riferivo è proprio perché è una nicchia molto ristretta ed è un prodotto nuovo è un prodotto assolutamente nuovo abbiamo fatto un'analisi di mercato e come competitor ce ne sono ma si pongono tutti in altri modi quindi fondamentalmente tutto nuovo volevo fare una domanda sulla collaborazione tra i due team perché mi sembra di capire che fate parte di due aziende differenti diciamo l'azienda di Manuel che ha ingaggiato quella di Laria volevo capire il processo come è avvenuto diciamo dalla scelta del collaboratore a se lavoravate insieme quindi avete fatto un team c'erano dei confronti settimanali allora innanzitutto sì siamo due aziende diverse e una delle prime fasi che abbiamo dovuto affrontare è stata la scelta di un partner che ci supportasse nella parte di design come collaboravamo trello è stata una benedizione noi eravamo a Bologna allora a Sant'Arcangelo di Romagna e quindi checkpoint giornalieri anche su Skype quindi l'idea era abbattere il più possibile le barriere pur rimanendo lontani non abbiamo formalizzato niente cioè non c'erano i mega sal sì qualcuno sì ma in realtà abbiamo cercato di minimizzare i processi Iteration meeting sì ultima domanda sì Iteration meeting alla fine di ogni iterazione e spesso anche confronti dal vivo a Sant'Arcangelo sono un'ora e mezza di auto perché per spiegare alcune fasi ovviamente fare interviste devi essere dal vivo non ce n'è ok sì io sono Alessandro Pollini di BSD e di mestiere faccio quello che fa Ilaria il designer e niente non ho una domanda volevo ringraziarvi in realtà l'esperienza che raccontate la conosco l'ho vissuta la sto vivendo anche attualmente è soltanto una sottolineatura mi piace mi è piaciuta molto l'idea di fare il racconto insieme si percepisce che riconoscete le competenze l'una dell'altro e viceversa e questo è il valore aggiunto di questo tipo di progetti che hanno un obiettivo molto ambizioso molto sfidante sono quelle esperienze professionali che anche secondo me sono quelle più più intriganti più sfidanti più motivanti per fare il designer per farlo in team insieme agli sviluppatori e niente quindi bravi senza ma come? no non c'è nessun ma è solo anche io vivo questo e mi piace bravi grazie grazie abbiamo esaurito il tempo grazie a Manuel e Ilaria e prima di pranzo vi ricordo che potete votare tutti i talk su joined.in giusto? e nulla buon pranzo ci vediamo alle due e mezzo grazie grazie grazie